caricatore doppio per ak 47 da 1200 colpi caricatore è clippato con due soliti agganci in tecnopolimero avvitati con delle viti metalliche il caricatore è interamente in metallo su alla sua sommità vediamo due ghiere girevoli che servono per alimentare i colpi per caricare i colpi lungo questa cannula qua da qui invece vengono inseriti i 600 colpi per ogni caricatore 600 da un lato e 600 da un altro 1200 per l'appunto poi una volta pieno di colpi vengono girate queste due rotelline poste alla sommità fino a che la molla non tira alla perfezione e questa parte qua viene incastrata prima una volta sul fucile fino al suo esaurimento poi sganciato si può agganciare a quest'altra parte